Bellezza della verità. Sono sorpreso io e questo del risultato. La Carlotta originale è una cosa semplice dedicata a un giovane. La Carlotta che abbiamo evoluto è un prodotto molto più complesso in cui certi valori che normalmente non vengono presi e indagati qui emergono e chiedono di essere indagati. E anche il lavoro del prodotto ha migliorato perché i prodotti che fa l'uomo sono i riflessi dell'atteggiamento anche spirituale dell'uomo. Grazie a tutti.